Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 27.492,63 punti, sulla stessa linea, in colore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 8.210,18 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il Nikkei 225, più 0,22%, come l'indice cinese, 0,71%. Piazza Affari non si sposta dai valori della sessione precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato meno 0,08%, Piatta Londra, che tiene la parità, resta vicino alla parità Parigi, più 0,02%. Buona la performance a Milano del comparto bancario, che riporta un più 1,08% sul precedente. Effervescente Unicredit, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,42%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI composito, che delle vendite al dettaglio. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle scorte di petrolio. È previsto domani dalla Germania l'annuncio della produzione industriale. Grazie a tutti.